Parliamo un po' di Inter, ci sono tante novità sull'Inter per il mercato, per esempio Valentin Carboni pare davvero sempre più vicino al Marsiglia e tra poco ci porremo l'interrogativo se sia o meno una mossa azzeccata, anche perché si è sempre detto un gran bene di questo ragazzo, no? Il primo a parlarne molto bene fu Simone Inzaghi, e vi riproporiamo questa clip del 12 luglio, giorno della conferenza, la prima conferenza stagionale dell'allenatore dell'Inter, che in più occasioni durante la conferenza si rifà a Valentin Carboni come una risorsa importante per l'Inter, anche senza che gli si ponesse una domanda a riguardo specifico. Ascoltiamo Inzaghi il 12 luglio, poi commentiamo assieme. Per quanto riguarda Carboni, abbiamo visto quello che ha fatto quest'anno al Monza, quando è stato impiegato, è un giocatore che ha dimostrato con noi due anni fa, ha dimostrato nel Monza, ha avuto un inizio di Coppa America ottimo, quindi è nel futuro dell'Inter, quindi lo aspetto insieme al nostro capitano. Chiaramente noi con Carboni abbiamo un'opzione in più, perché Carboni può, chiaramente a seconda delle partite puoi anche cambiare, metterti con due giocatori che lavorano sotto una punta, in qualche partita può anche fare il quinto offensivo, nel momento in cui tu mantieni due quinti, Carboni può rimanere da una parte largo, puntandoti sempre l'uomo, come ha fatto qualche volta anche quest'anno nel Monza. Quindi il fatto di avere Carboni in rosa è un qualcosa che ci può migliorare, perché noi sappiamo che la caratteristica dell'uno contro uno negli ultimi tre anni non ne abbiamo tanta, ma compensiamo con tantissime altre qualità che hanno i nostri giocatori. Non dimentichiamo che quest'anno, insomma, tra di noi abbiamo anche Carboni, che abbiamo visto tutti quello che è capace di fare. Ragazzi, hai detto un sacco di cose belle, e vi ripeto, siccome l'abbiamo ascoltata bene alla conferenza, lo diceva senza che nessuno gli ponesse domande su Carboni, ci dà una risorsa importante, non abbiamo quel tipo di giocatore, può giocare qua, può giocare là, ci permette di cambiare modulo, Riccardo, ci faceva tanto affidamento, invece adesso Carboni pare vada al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto per la società francese, con contro riscatto per l'Inter. 41 milioni. Il momento fondamentale è che adesso lo danno a Marsiglia, ma loro anche l'anno scorso l'hanno ceduto al Monza in prestito, questo gran campionato non l'ha fatto, io l'ho visto, a 19 anni, ha fatto tre assist e due gol, dal subentrato, e mai da titolare dall'inizio. Io Carboni o Maldini a Monza? Preferisco Maldini, non Carboni. Ha fatto meglio. Però se torna lui, per carità, il Monza farebbe comodissimo. Però l'anno scorso, questo grande campione, allora sei andato a prendere un'auto, invece ha speso 10 milioni, ti tenevi Carboni. Quest'anno comunque, sai, la ricerca di un appunto in più, perché non lo tieni? Lo dai al Marsiglia e lo cedi, quasi lo perdi. E tu che risposte ti sei dato? Mi sembra più che una... Il Ricardo allo scorso anni... Lui ha subito il naso un po' quello di Pinotchi. Qual è il valore che dalleva 18 anni? Parla da procuratore, non da allenatore, se no lo tienilo. 18 anni. E poi la valutazione, 30 milioni, 35... 40 milioni, presto un diritto di riscatto, ragazzi, a 40 milioni. Quando ha parlato in Zagli, l'abbiamo sentito, non valeva 40 milioni. Ocri adesso incomincia a vedere di... Perché prima si è spaventato, secondo me, vedendo anche quello che stava succedendo al Milan a livello di sollevazione popolare. Ha detto, va bene, si rinnova l'autaro, ci mancherebbe, non va via nessuno. Anche perché l'Inter ha preso due... Aveva già preso comunque due giocatori che Ocri non avrebbe preso, che però mi sembrano soprattutto... Però a zero gli ha presi. A zero. No, no, domandiamo un attimo su Carboni, però. Carboni, Carboni, a quei tempi, Paolo, non era valutato 40 milioni. Oggi, oggi l'Inter fa bene a non tenerselo in rosa, a darle in prestito con diritto di riscatto a Marsiglia, Marcello? Non giocherebbe. Non giocherebbe. Ma infatti lui vuole andare via, lui non vuole restare all'Inter come quarta punta, vuole giocare e ok. Ma è una punta vera lui? No. È una seconda punta. Sotto punta. Marcello, non ti sentiamo. Io... Ecco ti. Eh vabbè adesso... Io non riesco a capire... No, è Foschini che fa questo. È Foschini. Mirbella. Ma sei così bravo. Sì. Perché l'Inter non se lo tiene? Esatto. Perché l'Inter non se lo tiene? Perché non gioca. Perché l'Inter non se lo tiene? E perché non l'ha tenuto l'anno scorso? Non riesce a liberarsi di Arda. Allora, ragazzi. Se io ho un fenomeno in squadra, tu ormai me lo state ripingere, un po' come Camarda, che ogni due per tre sento Camarda. Ma... Allora, Camarda. deve giocare come gioca Jamal nel Barcellona, deve giocare nel Milan, anche se a 16 anni, deve giocare nel Milan, 15 anni, quanti anni, se è un fenomeno, deve giocare. Valentin Carboni, tutti ne parlano benissimo? Perché l'Inter non se lo tiene? Perché lo continua ad andare a impresto a voler piazzare? Se è forte, io me lo tengo. Se non è forte, lo cedo. Sulè, io lo ritengo un giocatorino, a dispetto di tanti altri tifosi della Juve, lo ritengo un giocatorino. Giustamente la Juve ha fatto cassa con Sulè, perché secondo me non è un giocatore che chissà che cosa ci poteva far vedere, quanto poteva far crescere la Juventus. Il suo peso specifico non era tale da poter determinare un cambiamento radicale dell'attacco della Juventus. La stessa cosa Valentin Carboni, ne sento parlare sempre come un fenomeno, giocava poco al Monza e l'Inter lo vuole cedere. Ma perché? Ma hanno stesso discorso per Casadei, no? L'Inter l'aveva dato al Chelsea per una cifra folle. Cosa ha fatto al Chelsea? No, per ora niente. I giovani d'Italia, le grandi squadre, li usano come cassa. Quindi tu sei del partito che Carboni non sia nulla di che? No, buon giocatore, ottimo giocatore, ma non è Messi. In Zagli sembrava Messi, giocava bene ovunque, in difesa, quinto d'attacco, a centro. No, non è così. È uno cazzuto, è uno che ci mette grinta, ha grande classe e tutto. Però adesso stiamo parlando del futuro pallone d'oro e non vale quei soldi. Cioè, con tutto rispetto per non aver fatto il titolare fisso al Monza l'anno scorso. Da subentrato ha fatto bene, da quando è partito il titolare non è mai stato decisivo. E questo è anche un motivo. Ma il fatto che in Zagli ne parli così, in conferenza, mi ricordo quella conferenza del 12 luglio, quando era esegue di Garaceni, io ci rimasi un po' perché non è che ha dimostrato chissà che cosa. È rimbarazzato io. E tra l'altro non se lo tengono, non se lo tengono in rosa. Non è che il giocatore che chiede come fa uno spesso, non gioco, voglia andare via. No, no, lui vuole andare via. Sì, però non c'è questo. Voglio dire, soprattutto, cioè, la società lo se lo tiene, se... E che fa di tutto per tenerselo. Un giocatore in cui crede così tanto. E un allenatore come Simone Inzaghi non spende delle parole così importanti, tra l'altro, come ha detto Paolo, neanche a risposta a delle domande. È andato lui a parlare direttamente, senza che gli fossero poste delle domande, su Valentin Specifici e su Valentin Carboni. E questo è che meraviglia, ok? Poi che ha delle capacità, delle potenzialità, ci sono. E per me è diversa la questione Camarda, che è un ragazzo ancora più giovane, che ha già mostrato delle cose, ha già, diciamo così, è arrivato a certi primati, a cui pochissimi erano arrivati. Quei parietà, quei parietà. E per me è ancora differente quel discorso, Marcello. Quei parietà, eh, quei parietà. Sì, assolutamente. Ma beh, prima di anche Valentin Carboni ha vinto la Coppa. Però uno non se ne priva. Ha delle potenzialità, quello sicuro, quello sicuro. Ce l'ha, lo sappiamo tutto. Tu hai ragione. Però queste sono le dichiarazioni che un allena, non dico che deve fare. Perché come hai detto, come abbiamo detto, nessuno gli ha chiesto niente. Però parla di un suo giocatore. Lo esalta. E chiaramente parla bene. E lo deve promuovere, sennò chi glielo compra? E voilà. Se non ne parla bene. Però non mi stupisco se, visto che ne parlano da mesi, che è bravo, è bravo, è bravo. Ne abbiamo fatte trasmissioni. L'attinenza è via. In cui si stava a parlare sempre benissimo di Valentin Carboni. Tenetevelo. Puntateci. Inseritelo in rosa. No, lo vengono. C'è da dire che in Zagli... Scusa, chiudo velocemente, scusa Furio. Ma perché come ho detto, come abbiamo detto, in questa Inter è strachiuso. Non chiuso. Non giocherebbe mai. Tra l'altro lui ha scelto di giocare nel... Ma se è così forte, ma se è così forte, toglie il posto lui. Sì, ma davanti, guarda un po' i nomi che ha davanti. Però ci sono 60 partite. L'Inter cerca un po' più di quel tipo. Tra l'altro si parla di Gudmusson. Va a prendere Gudmusson che è in una situazione... Tra l'altro la puntura di Zangrillo. È all'Inter e anche a chi continua ad accostare Gudmusson all'Inter. Tanto lui ha scelto di giocare Valentin Carboni con la nazionale argentina. Potrebbe giocare anche con quella italiana. Sì. Perché ha origine italiana. Però in Zagli aveva preso una... Aveva commesso un errore clamoroso al suo arrivo, dopo il primo anno. Quando aveva... Anzi, al primo anno, quando aveva chiesto un solo giocatore e ha preso Correa. 30 milioni di euro. E quella resta sicuramente una situazione... Ma adesso... Dopo quello che ha fatto in quattro anni non puoi più parlare di macchie e di Zagli, anzi. Però scusami, l'ha preso e ha fatto bene, voglio dire. Purtroppo ci sono anche queste... Chi è che l'ha preso? Sì, no. Possono essere, lui l'ha allenato. A quei tempi, con 30 milioni, Zagli, giustamente, dice che qui ragazzi già siamo in difficoltà, se spendiamo anche dei soldi in una maniera così spericolata. Si può togliere il merito a Simone Zagli, sicuramente, di aver dato spazio a Cervi, che alla Lazio era finito ormai, è andato all'Inter, è un altro giocatore, quello che il nazionale aveva dimostrato grandissime cose. Prova a pensare a Darmian, che sembrava avesse finito a Parma, preso 2 milioni e mezzo, ha riconquistato... Forse non so se era già stato in nazionale, Darmian, in altri tempi. Sì, era già stato convocato in nazionale. Esatto, però stiamo parlando, lui ha fatto dei veri, ma Mkhitaryan, anche lì lasciato dalla Roma, hai visto che cosa fa. C'è da dire, la macchia era su Correa, non tanto su Zagli, però è stato anche massacrato da San Siro, perché sappiamo a San Siro. Prima parola che sbagli, sei venito. A Roma ha fatto delle belle cose, però non è mai sbocciato come giocatore. Come disse Conte, al primo anno di Inter, dice, qui se c'è qualcuno, Conte, allenatore dell'Inter, se c'è qualcuno dei miei che soffre la tensione, vada a giocare in provincia. In Italia ci sono tante belle città che hanno anche delle belle squadre, si mangia bene, perché qui si è così. Non è che qui lo prendo, ma vi ricordate Ronaldo che arriva al Milan? Quanti ne sono arrivati che non hanno avuto fortuna e sono stati subito scaricati? Sì, ma diciamo che... Tra Milan e Inter fa altro che l'album delle figurine. Diciamo che è rilevante, dai, perché è solo un neo su Correa, cioè l'unico recinto negativo della giustina in Zagli. Ecco, io non ne trovo altri, sinceramente. La pressione che fa lo stadio di San Siro, Riccardo, tu hai fatto la voce a San Siro per anni. Allo stadio, tu questi 80.000, io non li sentivo perché facevo lo spito. Il Brusio di San Siro quando un giocatore... Leggevo le formazioni con Liga Bue che fa concerti a 200.000 e questo mi dicevo, e rimanereci, tu fai i concerti, 200.000 ti spaventi, tu fai questi 80.000 che ti fiscano. 80.000 che ti fiscano, sono 80.000... Un muro umano. Riccardo, il Brusio di San Siro, il Brusio, scusatemi, il Brusio di San Siro è quando sbagli un pallone... Ma che cazzo fai? No, perché uno... sono in 60.000, in 70.000... Non ho mai sbagliato leggere la formazione, sarà malato. Sai, quando prendi la palla e magari ti scivola e vai a cacciodarlo. Un ragazzo che non ha mai avuto una grandissima personalità, e proprio lì, probabilmente, era quello il testello mancante, che poi potesse dare la continuità nelle prestazioni. Perché certi guizzi erano importanti di Correa, quando lo vedevi corre a una velocità pazzesca. Quelli che vengono presi di mira, a prescindere, che entrano in campo, c'è già qualcosa che non va. Non è riuscito a reggere la prestazione. All'Inter, quando si è andato dalla panchina a Gagliardini, c'era già il Brusio. Bravo. Allora, ripartiamo dalle amichevoli estive, ragazzi. Dopo aver calato la scura sulla Juve, già profettizzato, esperienze nefaste per il Minas stasera con il Manchester City. Parliamo dell'Inter, che vince 3-0 con la Spalmas, caro Furio. Altra doppietta di... Due gol di Taremi, cinque gol in tre partite. Con due rigori, credo, però, tirati. Cosa che continuo a risentire. Perché Taremi continua a segnare. Anche oggi l'Inter ha battuto 3-0 e la Spalmas. Doppietta di Taremi e gol, leggiamo, non l'ho visto, molto, molto bello di dimarco. Quindi amichevoli valgono. Ah, guarda, per me, Paolo, non valgono niente. Però, visto che... No, siccome sento che dici che c'è il partito dei Taremi, no, tra i tutti i voli... Eh, la vuol dire che va, tra i tifosi dell'Inter... Fra gli interisti, eh. Certo. Fra gli interisti. Beh, quindi Taremi che fa il quinto gol in tre partite è un segnale, vuol dire qualcosa. Il ragazzo è bravo a prescindere, il fatto che faccia cinque gol è l'influente. Sai, fra un mese hai già tutte queste risposte a queste domande. Poi dopo è il campo. Insomma, il fatto stesso che il Milan sia riuscito a comprendere anche questo. Ma anche Ken l'anno scorso contro il Real Madrid nella tournée americana fece doppietta, no? Se non vado errato. Pensa un po'. Non so se col Real Madrid o col Barcellona... Comunque ha fatto doppietta. Poi in campionato Ken ha fatto zero gol. E' infatti è andato alla Fiorentina. Sì, ma stiamo parlando di due cose diverse, dai, però. No, beh, Taremi stia facendo bene. Devi sempre juventilizzare la vita del calcio, no? No, è che non vorrei prendere gli abbagli estivi, no? Cioè, sembra che adesso Taremi... Questo c'ha trent'anni, c'ha. Fino a prima di arrivare all'Inter. Noi sentivamo, cioè eravamo tutti che volevamo... Ciascuno di noi voleva Taremi nella propria squadra. E' un'occasione, Taremi l'hanno preso a zero. Loro ci credono, fanno bene, non sarà titolare. Però Marcello lo voleva il Milan, eh? Qui omette le ripianti al Milan. Perché l'aveva in mano. E' il giocatore che poteva far bene al Milan, no? Tutti noi, con le nostre squadre, ambivamo a vedere Taremi nella nostra squadra. Cioè, non lo so. Magari mi sbaglio, però... Non voglio dire che Taremi è un brocco, eh? Si può anche un buon attaccante, ma non è che ne parlavamo tutte le sere qui a Diretta Sport, a Diretta Studio, eh? Non è che ne parlavamo sempre, no? Però è sinzalato meglio e anche più integro rispetto a Sanchez o Arnautovic. L'Inter ha una freccia in più nel suo arco, a tre attaccanti di livello. I quattro anni di Porto, che non è una squadretta, i suoi gol li ha fatti, eh? Sì, assolutamente. Poi non sarà... Cioè, io prima di metterlo al posto di Turam... No, esattamente quello sorprende, no? Che fino all'anno scorso, la maggior parte, non c'è mai un pubblicito totale, dei tifosi dell'Inter, mi raccontavano che Turam fosse un acquisto fantastico. Adesso invece sono in tanti, Riccardo, confermami, che metterebbero Taremi titolare. Ma i numeri hanno dato ragione a Turam. Perché inizialmente c'era scetticismo attorno a questo acquisto, perché? Perché chi doveva andare a sostituire dei giocatori che... Dzeko, Lukaku... Dzeko, Lukaku... Dzeko, dei giocatori che di gol le facevano frotte. Turam è anche vittima di un europeo non bellissimo. Assolutamente. Sì? Anche quello... C'è di cose molto uguali. Quanti giocatori sono così furia? È un titolare aggiunto, secondo me, nel senso che chiaramente Turam ha già dimostrato delle cose pazzesce. Ha dimostrato di valere tanto, l'ha dimostrato sul campo, cose che probabilmente neanche Marotta... Ha raggiunto i risultati, diciamo, che neanche Marotta si aspettava. E neppure Inzaghi, ok? Quindi ha fatto un gran lavoro, sicuramente. Quindi per adesso, secondo me, Titolam può essere titolare. Ma poi sarà che... Quando dimostrerà, magari allora si potrà decidere. Ma c'ha 32 anni, eh, Marika? Ho capito, ho capito. Però 5 gol non sono pochi, sicuramente. Non è un indizio importante. L'Otaro qualche pausa se la prende, no? Potremmo il titolare, ragazzi, dai. Chissà mai, no? Taremi, Turam... La tattoo. Io le ho capito. La mamma presa, c'è un motivo, voglio dire. Infatti ha dimostrato di valere. La tattoo. La tuta. La tuta. L'Otaro ogni tanto si... Hai sentito? L'Otaro ogni tanto si prende qualche pausa. Eh sì, anche l'anno scorso. Incazzati. Non voglio adesso... Tu ti devi incazzare perché L'Otaro in 5 anni si è preso 3 pause. Se le prese è una mitragliatrice. C'è l'alternativa, ora c'è l'alternativa. L'anno scorso avevi Sanchez che gioca con una gamba. C'avevi... Comunque ha fatto un buon campionato Turam l'anno scorso. 12 gol e tanti assist. C'era solo lui. 13 gol. Però voglio dire... Ragazzi, come primo anno la tuta l'Inter mica è male. Ma lo dici... Però hai visto che cosa fa? Ha fatto un gol nel derby. Bello. Ha fatto un gol nel derby. Sia l'andata di ritorno o pesante. L'andata bellissima. Anche la sua valenza proprio all'interno dello spogliatoio, dico io. Quindi non solo i risultati che effettivamente ha portato sul campo. Si è integrato benissimo nel gruppo. Ed è diventato anche uno un po' dei punti di riferimento dell'Inter di Inzaghi. Io lo vedo così, Turam. Abituato a festeggiare gli scudetti del padre nella Juventus. Non so se il fratello riuscirà a deguagliare. Sono tutti i juventini, ragazzi. Eh sì, il papà giocava nella Juve. Ezio dice che il fratello riuscirà a deguagliare. Il fratello è un bel... Anche lui ha una bella sì, però ancora dovrà dimostrare. Mi sembra più cattivo. Il Dio Dian Turam non è male. Non è male. Mamma mia, funziona. Turam Cannavaro. Grande, grande coppa. Comunque, Taremi, secondo me, qualcosa di buono ce lo farà vedere. Ok. E vedremo poi in corso d'opera. Secondo me lì Inzaghi, però, Marco Sturam ha già dimostrato. Insomma, la stagione scorsa di valere tantissimo. Di valere. Guardate un po', Alberto Zangrillo, sul suo profilo Instagram, cosa ha postato oggi. Ha ripreso una notizia dalla Gazzetta dello Sport. Quindi questa è la pagina Gazzetta dello Sport che Zangrillo ha ripostato. La notizia diceva attacco Inter, porta aperte, carbone in prestito, De Pai si offre. Priorità a Gudmundson. L'ala del Genoa gradisce Milano, ma in Razzurri devono cedere Correa. Il commento di Zangrillo, presidente del Genoa, è col caldo e l'intelligenza artificiale. Puntini, puntini, puntini. Intelligenza artificiale, chiaramente perché Gudmundson sta vestendo una maglia grazie alla computer grafica, non peraltro in questo momento, e il caldo dice lui nel dare certe notizie. Quindi, cioè, Marcello ci va giù pesante. Pesantino. Eh sì. Sì, vabbè, ma ormai tutti i presidenti. Qui, cioè, o queste trattative ce le inventiamo tutte noi giornalisti, oppure i presidenti fanno il doppio gioco. Posso pensare che adesso, che se ne è parlato per mesi, che l'Inter comunque stava ragionando anche su Gudmundson improvvisamente ha il petto del caldo. No, ma qua è un po' più fine, perché Zangrillo aveva già avuto modo di dire che l'offerta dell'Inter era fondamentalmente iniqua rispetto alla richiesta del Genoa. Cioè, vogliono fare le nozze con i fichi secchi. Era questo il messaggio che è arrivato dal Genoa. Se Zangrillo ci dice che il caldo fa brutti scherzi, ci credo, perché lo dice un medico, per carità. Però, che il Genoa debba accedere a Gudmundson, lo sappiamo tutti, perché il Genoa ha problemi... E ma c'ha un problema a Gudmundson. No, che arriviamo a questo. Il Genoa ha problemi, deve vendere, ha venduto quello che è andato in Dragosin, e deve vendere per il bilancio, perché la società 7-7 Patriots ha problemi in generale, una società di calcio, una delle tante, è fallita, e deve vendere a Gudmundson. Solo che non può accedere, perché c'è un problema di natura penale, e l'Inter, certo, non va a impegnare 30-40 milioni per un giocatore che magari viene condannato in autunno e lo vuole in prestito. Il Genoa però lo vuole accedere, lo deve accedere. Si decide tutto a gennaio, sì, sì, infatti. Per cui non c'è questo problema. Situazione delicatissima, extra calcistica, quindi lasciamo stare. Assolutamente, Massimo. Però questo rischia, estremamente delicata, però questo rischia a gennaio di non giocare. Da gennaio. Il giocatore che ha una certa anche valenza, cioè ha certi... E che poi il giocatore voglia lasciare Genova perché ambisce andare in grandi società, tra cui in primis l'Inter, e anche questo è un'altra notizia. Ha la possibilità di andare in una società come l'Inter o società della stessa, diciamo, lo stesso spessore. Però a questa cosa qui... Aspetta, arriviamo che le non dà poco. Esatto, che sicuramente è delicata e non... Chi mette lì... Se viene all'Inter, succede qualcosa, gli date un passaporto un po' lì sotto... Possiamo neanche entrare nel merito perché sono questioni... Ogni sera deve arrivare lì. Vediamo l'Inter, dai, la formazione dell'Inter. Inter che deve apporre appunto qualche puntello a una rosa di per sé già molto forte. Si parla di Kivior per la difesa. Gudmundsson appunto potrebbe andare a rinfoltire il reparto avanzato, ma davvero poche cose da fare. Stavo leggendo un po' di notizie che arrivano nella nostra redazione. Si continua a valutare lo scambio Chiesa-Raspadoli, lo faresti, Ezio? No. Marcello? Per pur di non restare a zero lo faccio. Lo fai? Lì mi sta portando Chiesa, no? A andare a parametro zero. Pur di impedirlo gli faccio lo scam. La Spadoli è che c'è una rottura totale tra Chiesa e la società e quindi a questo punto cerco di portare a casa la possibilità. Ma la Spadoli è proprio il minimo sindacale. Secondo ragazzo, una alla volta. Prego, prego. In questo momento? Non abbiamo sentito il finale. Ti sta portando alla decisione del contatto, cioè ad andare via a parametro zero. Questo la Juventus glielo deve impedire. Siccome io so che Giuntoli gli ha comunque parlato, ha parlato con lui o ha parlato con Fali Ramarani, gli ha detto guarda che lui in questo momento o si cerca una squadra o il prossimo anno se ne sta in tribuna, io penso che si interessi di entrambi riuscire a trovare una collocazione per Chiesa perché se no la Juventus ci rimette ma ci rimette pure Chiesa perché il prossimo anno poi andrà via a parametro zero ma non gioca. Sì, sì, ma un anno in tribuna è dura. Sì, cioè tu la richiede un giocatore da Juve. Poi ha proprio il faccino da quaglioncello. Ma poi il bala che faccia aveva. Furio, l'abbiamo parlato la settimana scorsa, il vantaggio è che è già sposato, dunque non deve pianificare il matrimonio. Raspadori, perché è successo con Chiesa, dicevi l'altra volta che il matrimonio è il giorno del raduno, ecco, magari lui è già sposato. Sicuramente è uno che non si risparmia. Raspadori, ecco, visto che su Chiesa si dicono tante cose, ve lo sapete molto bene. Ma è un giocatore che... Sì, per carità, però di Chiesa cos'è che si dice? Allora mi prendo Simeone, scusami, se proprio devo fare uno scambio. Ma se dipende chi ti offrono, cioè in questo momento devi cercare di portare a casa la soluzione migliore. Se tu devi dare Chiesa... Ma Simeone non me la offre nessuno per Chiesa, anche perché Chiesa, devi capire, Furio, lo sai benissimo da solo, cioè che lui, quando ti porti in casa un giocatore come lui, gli devi dare uno stipendio molto alto. E non tutte le società sono disposte a dare quello che vuole Chiesa, se no sarebbe già finita con la Roma. Cioè, quando la Roma la chiesca, la Juve ha accettato i 25 milioni alla Roma, poteva benissimo essere fatto lo scambio, fatto l'operazione, invece l'operazione non si è chiusa perché Chiesa voleva 7 milioni che la Roma non le risposte dare. Siccome c'è sempre il pericolo di Conte che magari in Chiesa lo fa risuscitare calcisticamente parlando e quindi potrebbe essere uno smarco impossibile. Ma infatti io Chiesa non lo darei via, ma tutto quello che è successo tra Chiesa e la Juventus ti porta a Pornando. a metterlo alla porta, perché, scusa, cioè, allora, lui, partiamo dal presupposto, l'abbiamo sempre detto anche in questa trasmissione Furio, che la Juventus l'ha gestita malissimo questa storia di Chiesa, soprattutto la sta gestendo con troppo ritardo, perché questa storia andava chiusa già la scorsa estate, in un modo o nell'altro, con la cessione o comunque una soluzione, rinnovo, quello che volete voi. Il problema è che anche Chiesa ci mette del suo, perché non è riconoscente nei confronti della società che l'ha comunque tenuto nel momento in cui si è infortunato e l'ha curato. ha fatto due stagioni non all'altezza del suo nome, perché non ha fatto le due ultime stagioni bene, complice il modo in cui lo faceva giocare l'allenatore, così come anche il suo infortunio che veniva sempre fuori, il suo recupero che è stato sempre tardivo. Però lui non ha fatto due buone stagioni. Ti permetti, nonostante tutto questo, dopo tutta questa premessa che ho fatto, di andare dalla tua società e di chiedere di un aumento, è chiaro che la Juve ti dice, senti, quella è la porta, vai, chiudiamola qua, in un modo o nell'altro. Cioè, nel senso che io preferisco, anche se mi piange il cuore di vedere uno come Chiesa andare via, però per questo suo caratterino, un pochettino particolare, queste sue pretese, beh, se non ci mettiamo d'accordo, trovati una squadra e vai. Oppure troviamo un modo per, tu vai in una squadra che ti piace, ti piace andare al Napoli, ti piace andare a essere allenato da Conte, benissimo, ci vai, Napoli non può permettersi Chiesa, mi dà un altro giocatore, perché non vuole darmi 25 milioni, mi dà Raspadone. Guarda, una cosa, se è vera, poi non so se ha avuto un seguito, Ibrahimovic, non so se scherzava, ma non mi sembra uno che scherza. A proposito di Origli, quattro anni di contratto a 4 milioni e mezzo, è ritornato, ha detto che Origli, insieme a un altro, insieme a Balloture, giocherà nel Milan del futuro, quello che va sulla luna e poi non si sa se torna in giro. Milan futuro, non del futuro. Tu mi dici sempre, no, io voglio il Milan del futuro, basta, questo non mi interessa più, io tifo per il Milan del futuro. Allora, visto che voi avete, anzi siete stati i pionieri di questa soluzione, di questa squadra, come tante cose. Lo puoi far giocare. Sti, però, rischi veramente di essere tacciato di mobili. No, scusami. Lì gli dice, io ho subito un declassamento, io vado a giocare in Lega, vado a giocare in Lega Pro, non gioco più in Serie A. Sì, ma scusami, è la Juventus, ha un contratto, ha un contratto. Ha un contratto con la Juventus, ha uno stipendio, un signor stipendio, non rientra più nei programmi dell'allenatore, eccetera, eccetera, e anzi la Juve fa un regalo a Chiesa, gli dà la possibilità di potersi allenare con giocatori professionisti. Stiamo parlando di un campionato professionistico, non stiamo parlando. No, 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 no. Mi sembra un pochino paradossale, sinceramente, come situazione. Dobbiamo essere ostaggio di certi signori.